C'è un nuovo capitolo che riguarda la vicenda di Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato a quattro omicidi e del quale l'Italia ha chiesto al Brasile l'estradizione. Battisti fu arrestato, lo ricorderete, nell'ottobre scorso per contrabbando di valuta, fu rilasciato quasi subito con l'obbligo di portare il braccialetto elettronico. Ebbene, la Corte Suprema di Brasile ha revocato tutte le misure cautelari. Di nuovo libero di spostarsi al di fuori della sua zona di residenza sul litorale di San Paolo, senza l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico e di riferire alle autorità brasiliane. Il Supremo Tribunale di Giustizia del Brasile ha revocato le misure di sorveglianza speciale imposte a Cesare Battisti. L'ex terrorista dei pacchi, il gruppo proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo in Italia per quattro omicidi, fuggiasco da quasi 40 anni, mette a segno un'altra mossa a suo favore nella lunga partita a scacchi con la giustizia brasiliana e italiana. Sei mesi fa Battisti era stato arrestato perché sorpreso al confine tra Brasile e Bolivia con una somma in contanti superiore al limite consentito, da cui il sospetto di un tentativo di fuga dal paese per evitare l'estradizione. La giustizia brasiliana lo aveva accusato di contrabbando di valuta. Pochi giorni dopo era stato rilasciato con le prescrizioni sulla libertà, cadute appunto ieri. Il giudice ha colto all'unanimità una richiesta di Abeas Corpus, presentato dalla difesa dell'ex terrorista Rosso. Le misure precauzionali erano state emanate in modo generico e senza concreti elementi di accusa. Battisti si era difeso dicendo che stava andando a pesca in Bolivia e a comprare vino. Secondo molti invece, fiutato il vento, stava cercando di arrivare in uno degli ultimi stati disposti ad accoglierlo. Ora dunque la libertà, ma ciò non esclude che alla fine il governo di Brasilia conceda davvero l'estradizione affinché Battisti sconti in Italia la sua condanna, due ergastoli, per quattro omicidi commessi negli anni 70. L'ultima parola aspetterà il presidente brasiliano Michel Temer, che a riguardo non ha preso finora nessuna decisione. Per un'eventuale estradizione bisognerà comunque superare un ostacolo. In Brasile non è previsto l'ergastolo. La pena massima è di 30 anni. L'Italia dovrà garantire di non superare questa soglia. Un limite sottile, visto che Battisti ha quasi 64 anni. Oggi festa della liberazione, nel telegiornale vi abbiamo dato conto delle celebrazioni che si sono svolte a Roma, a Milano, celebrazioni che si sono svolte però in altre città d'Italia. A Trieste però c'è stata una contestazione nei confronti del rabbino. La comunità ebraica ha lasciato la cerimonia che si stava svolgendo alla risiera di San Sabba. Si sono levati dei fischi e anche delle bandiere palestinesi. Noi, noi del Tg Cronache, siamo andati invece a Todi dove nei giorni scorsi il sindaco di Forza Italia che guida una giunta di centro-destra aveva deciso di non concedere all'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il patrocinio del comune. Una decisione che aveva sollevato non poche polemiche. E così questa mattina nella cittadina Umbra si sono svolte due iniziative. Una del comune, l'altra dell'ANPI. Il nostro inviato. Il 25 aprile di Todi è uno spettacolo in due atti che si tiene sotto l'arco del Museo Civico dove si trova la lapide dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Il primo è delle istituzioni, sindaco e politica in testa. Il secondo è dell'ANPI, l'Associazione Partigiani che per la prima volta dopo 73 anni non ha ricevuto il patrocinio dell'amministrazione comunale. Chi e cosa ha prodotto una spaccatura così plasticamente evidente è una matassa difficile da sbrogliare. Da una parte c'è il sindaco Antonino Ruggiano, Forza Italia, che dopo aver concesso negli anni passati il patrocinio alle manifestazioni dell'ANPI, stavolta ha fatto una scelta diversa. E a chi gli chiede se la spiegazione è nella composizione della sua nuova maggioranza, che per la prima volta in Consiglio Comunale vede la presenza di un rappresentante eletto nelle liste del movimento di estrema destra, Casa Paun, risponde che Casa Paun non c'entra nulla, il problema è la raccolta di firme, ma è più fascismi, promossa quest'anno dall'Associazione Partigiani. Io sono d'accordo a dire no al fascismo, se diciamo al fascismo di 73 anni fa, sono il primo. Se però deve essere oggi un'occasione per dire no al fascismo che c'è oggi e diventa uno strumento di lotta politica attuale, credo non sia giusto. Ma se per il sindaco il fascismo non è più un pericolo, per la governatrice Umbra, Catiuscia Marini, già sindaco di Todi, che sfila al suo fianco la scelta di staccarsi dall'Ampi, è stata un errore provocato proprio dalla nuova situazione politica. Sicuramente un'amministrazione comunale, marcatamente orientata a destra, con una presenza di consiglieri comunali di Casa Paun, ha prodotto, dopo 73 anni, una giornata come quella di oggi che non è mai accaduta. La governatrice ribadisce questo anche davanti ai manifestanti che hanno aderito alle manifestazioni promosse dall'Ampi, dove tutti ricordano Tito Oronobili, socialista, membro dell'Assemblea Costituente, sepolto nel cimitero di questo paese dove subì l'aggressione squadrista, le cui conseguenze lo portarono alla cecità. Il clima non è purtroppo solo di Todi, quello che succede qua è un po' quello che succede anche in tutto il paese, no, però in altre zone anche. C'è da dire che da noi in Lampi è tanto che lancia allarmi, Noi, la nostra sezione è da tempo che manda appunto allarmi perché il sentore che si potesse finire così c'era. E finalmente ci hanno ascoltati in tanti, speriamo che domani di non ritrovarci di nuovo soli. Stiamo seguendo la vicenda della 25enne italo-pachistana di Brescia, che si sospetta sia stata uccisa dai propri familiari perché aveva rifiutato un matrimonio combinato da suo padre. La famiglia ha sempre sostenuto che la ragazza sia morta per un arresto cardiaco, una tesi però che non ha convinto nemmeno la magistratura pakistana che ha deciso la riesumazione del corpo. L'avevano sepolta in tutta fretta in questo campo come un cane randaggio. Aveva l'aereo solo cinque ore più tardi. I suoi familiari adesso sotto custodia con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere hanno detto che si è sentita male sulla strada. Sanacima, 25 anni, italo-pachistana, integrata a Brescia. Secondo suo padre era ipertesa, soffriva di colesterolo alto e aveva l'ulcera. Adesso davanti alla sua tomba ci sono i poliziotti con le uniformi blu del distretto di Gujarat. Nessuno può avvicinarsi. La magistratura ha autorizzato la riesumazione della salma e disposto l'autopsia. Gli organi sono già stati prelevati e inviati all'ospedale di Lahore. Non ci sarebbero segni evidenti di violenza. Secondo il medico legale ci vorranno almeno due settimane, forse di più, anche tre mesi. Poi si capirà davvero com'è morta la ragazza. Per ora non ci sono provvedimenti ufficiali contro il padre, il fratello, lo zio e il cugino di Sanà. La versione fornita dalla famiglia, l'arresto cardiaco, però vacilla. C'è il sospetto che il certificato di morte sia falso. La ragazza sarebbe stata sepolta, non al cimitero, senza autorizzazione. L'ipotesi che ogni giorno prende sempre più corpo è quella di un delitto d'onore. Così si chiamano nella tradizione pakistana gli omicidi delle donne, figlie e mogli che si ribellano alla subcultura del patriarca. Sanà avrebbe rifiutato le proposte di matrimonio combinato che le aveva offerto il padre, anche l'incontro con un vicino di casa, e avrebbe deciso di ripartire. Un'umiliazione pubblica per il genitore, da qui il delitto. Tutto da provare ancora, in ogni caso. Secondo la famiglia non ci sarebbe stata alcuna violenza. Sanà avrebbe cominciato a rifiutare il cibo e si sarebbe debilitata troppo. Poi la morte naturale. Una versione che domenica scorsa era stata accreditata in piazza a Brescia anche dalla comunità pakistana, con qualche schizzo di fango, malgrado sui social fra gli amici di Sanà, girasse già l'indiscrezione dell'omicidio. Sanà, che a Brescia lavorava in un'autoscuola, era cittadina italiana. La procura ha aperto un fascicolo. Sul fronte dei migranti, dopo giorni di soccorsi in mare e di sbarchi, oggi non si registrano nuovi arrivi. Però ci sono delle novità giudiziarie. Per quanto riguarda, lo ricorderete, il sequestro della nave della ONG spagnola Proactiva Open Arms. L'imbarcazione poi è stata dissequestrata un mese dopo, era stata sequestrata il 18 marzo scorso. C'è infatti una nuova mossa della procura di Catania. Il capo della procura di Catania non vuole mollare. Carmelo Zuccaro ha presentato ricorso contro la decisione del giudice di far cadere l'accusa di associazione per delinquere contestata dalla stessa procura al fondatore della ONG spagnola Proactiva, al comandante della nave Open Arms e al capo della missione, che lo scorso 15 marzo ha portato al salvataggio di oltre 200 migranti a largo della Libia. Secondo Zuccaro, durante quel salvataggio l'equipaggio si sarebbe rifiutato di consegnare i migranti alla Guardia Costiera Libica, con il chiaro intento di farle arrivare ad ogni costo in Italia, disobbedendo così agli ordini del Comando Operativo di Roma e ignorando il codice di condotta sottoscritto dalla stessa organizzazione non governativa. Un'accusa pesantissima che poi il giudice di Catania non ha confermato, ritenendo che non ci fossero prove o indizi sufficienti. Quadro poi smontato dal giudice di Ragusa, che il 16 aprile ha anche dissequestrato la nave Open Arms, affermando che se l'equipaggio si è rifiutato di consegnare i migranti ai libici, è stato solo per evitare che fossero portati nei campi di detenzione dove vengono violate tutte le leggi internazionali sui diritti umani. Una interpretazione legislativa contestata da Zuccaro, che proprio un anno fa lanciava dure accuse contro le ONG e che ora continua ad indagare sempre per lo stesso reato, associazione per delinquere appunto. Dopo aver convocato gli indagati in procura per essere interrogati, richiesta andata a vuoto perché gli interessati non si sono presentati, ora Zuccaro ha anche messo un decreto di sequestro per i loro cellulari, in realtà già sequestrati il 19 marzo dalla squadra mobile di Ragusa. I magistrati di Catania si oppongono anche al dissequestro della Open Arms, che ha già ripreso in largo dal porto di Pozzallo sei giorni fa, destino ben diverso da quello della Juventa, la nave della ONG tedesca Jugend Rettet, sequestrata lo scorso agosto dalla procura di Trapani. Ieri la Cassazione ha deciso infatti di confermare il provvedimento. Un'inchiesta più complicata quella della Juventa, agli atti ci sono diverse testimonianze, anche il racconto di un infiltrato delle forze dell'ordine. Secondo la procura l'equipaggio avrebbe favorito l'immigrazione clandestina in collusione con gli scafisti. L'inchiesta sa per essere chiusa, ancora si ignorano i nomi degli indagati, un'accusa in ogni caso duramente respinta dai responsabili della ONG, che ieri in conferenza stampa a Berlino hanno annunciato di voler ricorrere alla Corte Europea. Ma se vogliamo parlare di storie di immigrati, storie di immigrazione, nell'agropontino vive una delle più grandi comunità di indiani Sikh. Sono circa 30.000 persone, di cui però 12.000 vivono in condizioni di schiavitù. Lavorano nelle campagne, soprattutto nella raccolta di frutta, verdura, lavorano nel settore dei latticini. Negli ultimi due anni, 10 indiani Sikh si sono tolti la vita, però c'è qualcuno che racconta questa realtà e cerca di aiutarli, come appunto ci racconta la nostra inviata che è andata nell'agropontino. La macchina distrutta a colpi di mazza è solo l'ultima intimidazione. Prima ci sono state le minacce di morte ai volantini diffamatori. Marco Omizzolo è un sociologo della cooperativa Immigrazione. Si è avvicinata alla grande comunità Sikh dell'agropontino per motivi di studio. Ha scoperto così che questi migranti qui erano ridotti a braccianti schiavi. Ha convinto gli indiani miti di religione Sikh a scioperare ed occupare le terre per chiedere migliori condizioni di lavoro. Omizzolo è vissuto con i Sikh per un anno e mezzo. Ha scoperto che loro vengono reclutati in patria nel Punjab. I loro aguzzini in Italia li fanno lavorare in ginocchio nelle campagne dell'agropontino per 14 ore al giorno, per 28 giorni al mese. Vengono pagati da 2 a 3 euro e 50 l'ora. Hanno una busta paga dove vengono denunciate solo 3-4 giornate di lavoro al mese con un salario di 400 euro, un centinaio di euro in più in nero. Vivono in queste condizioni circa 12.000 Sikh Se continuamente lavori 14 ore allora questi ragazzi prendono qualcosa per, secondo me, per lavorare. Anche stupefacenti? Sì. Ma glieli danno i datori di lavoro? Io non posso dire direttamente datore di lavoro però quando da uno caporale allora qualcosa c'è. Omizzolo con la cooperativa vince a Sabaudia nel 2015 un bando di 6 mesi per l'integrazione dei Sikh circa 2.000 vivono in questo alveare si chiama Bella Farniamare è un ex-residence turistico un posto letto costa 150 euro al mese. È qui che è cominciato tutto. Nel 2015 la cooperativa Immigrazione ha creato un presidio all'interno del residence dove la sera svolgeva corsi di italiano dove insegnava ai Sikh a leggere le buste paga dove traduceva in panjabi i contratti di lavoro e soprattutto spiegava ai lavoratori che non dovevano chiamare padroni loro caporali perché loro non erano schiavi qui è nata una prima coscienza sindacale. Ad aprile del 2016 4.000 indiani manifestano davanti alla prefettura di Latina 150 si convincono a presentare denuncia contro i datori di lavoro che non li pagano e li picchiano se protestano 450 Sikh sono pronti a testimoniare ora sta iniziando il primo processo per sfruttamento e caporalato e arrivano le minacce di morte. Un'organizzazione mafiosa autonoma fatta da un'alleanza tra trafficanti indiani caporali indiani e alcuni padroni italiani non sempre sono legati alle mafie tradizionali ma si sta sviluppando questa sorta di protomafia che finisce per l'appunto col produrre schiavitù. Intanto i nuovi immigrati africani vengono assunti al posto di quei Sikh che danno più fastidio ma la presa di coscienza dei propri diritti da parte dei braccianti stranieri iniziata ora aspettano solo che li difenda la legge. Per oggi è tutto adesso vi lascio a Tagadà grazie per averci seguito buona giornata a tutti voi noi ci vediamo domani subito dopo il telegiornale delle 13.30 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti